SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Anche questa settimana una puntata tutta da vivere a fil di cielo con gare di sky running e trail. Dolomites Run, pronti via con un selaronda trail da grandi numeri e successi grifati, Luca Carrara e Cristiana Follador. Avrei veramente scommesso un euro ieri sera sul mio stato di forma, è stata una gara intensa, scorsa su ritmi molto forti. A un certo punto, con una buona discesa mi sono trovato davanti e a quel punto ho cercato di stare davanti il più possibile, senza preoccuparmi di quanto mancasse al traguardo. È stato bello perché è anche la gara del mio team e quindi essere seguiti lungo il percorso sia da Andrea che dalla famiglia è sempre una cosa molto piacevole. Sono tre anni che aspettavo questa vittoria e oggi finalmente ce l'ho messa tutta, anche se ho rischiato perché Katia mi aveva quasi raggiunta ma non ho voluto mollare e ce l'ha fatta. Io oggi l'ho gestita molto bene, ero anche proprio felice e tranquilla. Restiamo a Cannazei con Diego Salvador che ci presenta gara sky e gara vertical. Siamo partiti con la gara lunga, con la ultra, tutta questa settimana ci saranno degli eventi, ci saranno delle serate in collaborazione con il nostro nuovo partner, con la Salomon e poi venerdì si inizierà col vertical della Crepa Negra e per poi concludere questi dieci giorni di manifestazioni con la Dolomita Sky Race. L'anno scorso è stato un po' un test, quella di proporre la gara su streaming, quest'anno è stato notevolmente incrementato il servizio e tutti quelli che non potranno essere qui a Cannazei o che magari saranno impegnati altrove potranno visitare, guardare come si sta svolgendo la gara appunto sul nostro sito grazie ai nostri partner che ci possono regalare questo spettacolo. Facciamo un passo indietro con il vertical del VIOZ e la solo di Davide Magnini e Paola Gelpi. Sono molto contento della gara di oggi, è stato un bel percorso nonostante il tempo non abbia permesso agli organizzatori di arrivare sulla cima VIOZ che comunque però è stato un percorso tecnico un po' più ripido rispetto a quello originale e comunque in parte tecnico nella parte finale anche questo è stato molto bello cambiare, arrivare in un altro posto, siamo arrivati in cima alla Peo 3000 e niente le sensazioni erano buone, adesso sto tornando un po' a correre dopo un leggero stop per una piccola infiammazione quindi speriamo di migliorare ancora. Questa mattina sono partita un po' dubbiosa sulla possibile prestazione in quanto questa stagione sta partendo un po' a rilento che ho una brutta tendinità a un piede quindi insomma ci si barca a meno un po' così su e giù, dubbiosa anche sul tracciato sinceramente perché questo nuovo percorso insomma era una sorpresa, un peccato non poter salire al mantova che è sempre un'emozione ma è stato comunque un bel percorso molto impegnativo, bello, belle salite e anche l'ultima parte tecnica divertente quindi sicuramente una domenica positiva coronata anche da un buon risultato quindi non potevo chiedere di meglio. Val Malenco Ultra Distance Trail, tutto pronto per una seconda edizione che si preannuncia stellare. Seconda edizione della Val Malenco Ultra Distance Trail, mancano gli ultimi particolari ma siamo pronti al venerdì sera alle 11 ci sarà il via, i singoli partiranno da chiesa, le staffette da lanzada avremo 155 concorrenti per la gara singola e 65 staffette. La gara si svolge in Val Malenco lungo sostanzialmente tutto il percorso dell'alta via ai piedi del Bernina, può essere percorsa o in individuale o in staffetta da tre elementi. Sono circa 90 chilometri per 6.000 metri di dislivello positivi e circa 6.000 negativi che si snoda per la gran parte lungo sentieri di montagna o comunque su lungo strade sterrate. La gara tocca 15 rifugi, ha tre scollinamenti sopra i 2.700 metri, percorre dei sentieri di vera montagna ed è una gara dura ed impegnativa. Lo spettacolo però sicuramente è grandioso e vi aspettiamo numerosi a tifare i nostri atleti. Concludiamo questa puntata con una super classica. A fine mese a Premana torna il Giro di Montt. 29 luglio Premana, Giro di Montt. Dopo l'edizione mondiale torniamo con un'edizione normale, chiamiamola così, come sempre è stata, le due distanze, 20 e 32 chilometri, una gara per tutti, quella corta, quell'altra ha il tifo, il fascino, la tradizione di Premana, comunque vi porterà a portare nel vostro curriculum una gara speciale. Noi ci contiamo che veniate in tanti, dopo l'edizione mondiale comunque vuol tornare la gara per tutti e quindi niente, che dire. Tradizione è la parola che ci piace dire dell'edizione di quest'anno, tutto quello che era Giro di Montt lo ripresentiamo in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue cose. Comunque la macchina organizzativa sta andando avanti e sembra tutto a posto come tutti gli anni, pettorali abbiamo già parecchi iscritti ma ce ne sono ancora, top runner come da tradizione aspettiamo a dirlo perché non ci piace dire nomi che poi non ci saranno, comunque c'è già un buon pacchetto top runner davanti per dare spettacolo. Che dire, come sempre apre mano a ogni atleta è un protagonista. Noi vi aspettiamo per una grande festa di sport, speriamo soltanto che sia una giornata come oggi. Anche per questa puntata è davvero tutto, il nostro consiglio in gara non cambia, sognate, osate e non mollate mai!